Questo come sgancia subito le liti per dire cosa mi travedere. Quello che ha detto lei la vedrei e poi noi cerchiamo. No, mai litigato. La persona intelligente la litiga male. Sotto alle spalle e va via. Dice, si gira e se ne va. Si gira e se ne va. Dai, ce l'ha messa, va. Io commento sempre. Bravo, grazie. Se siete tanto bravi. No, adesso. Grazie. Buon appetito. 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 Se io ti chiedo come ti chiami. Allora, fino a poi te ne vado, lo dimentico. Ma mi ricordo che ne mangiate. Forse, forse. Ci veniamo a posto, vedi. Poi ci vediamo a posto. Poi veniamo a posto. Dopo veniamo qui. No, la Natale. Napoli. Napoli, Napoli no. Eh, fa il puto giusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devi arricchire, ma non... Non tammo parecchio. 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 Non attacca solo le parti che rimangono attaccate... Non tammo parecchio. Non tammo parecchio. Grazie. Grazie.